Roberto Marinoni, Borgo Satollo Ciclin, uno dei tre. Ecco gli immediati inseguitori, il gruppo naturalmente è sfilato in fila indiana, siamo in una curva, bisogna stare molto, ma molto accorti. Ecco, 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 ecco. Ecco, ecco. Ecco, 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 ecco. Andrea Ricci, Borgo Satollo. Ecco, ecco, ecco. Ecco, ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco.